La fede fiduciosa è stato il leitmotiv del quarto quaresimale guidato dal Vescovo lunedì 11 marzo. Dall'ecomi di Abramo e di Mosè all'ecomi fiducioso di Maria. Partendo dallo spessore della verità mariologica, Monsignor Trasarti è passato ad una lettura del messaggio mariano con gli occhi rivolte al presente. Alle situazioni vissute nella realtà, con la semplicità di una traduzione comprensibile a tutti. Maria non è una figura aleatoria, ma una presenza viva e vicinissima alla nostra quotidianità. È la donna feriale, in questa ferialità germoglia e cresce la sua fede. Una fede fiduciosa, umile, appresa nella sinagoga di Nazareth, formata e informata dalla luce della parola di Dio.